del nostro Medinità, le campagne sull'immigrazione, dove l'immigrazione clandestina oramai era ma non stiamo parlando di questo, come no? Stiamo parlando esattamente di questo ma perché fa l'inciucio? è votare le regole, che è un vero cambiamento Sardone, rispetto ai rapporti con il Movimento 5 Stelle per il dopo 26 maggio, lei esclude un ritorno con Forza Italia? al governo nazionale è una questione di numeri se ci fossero stati i numeri per governare come centrodestra compatto probabilmente ci sarebbe stato centrodestra compatto al governo del paese i numeri non ci sono stati e quindi la Lega si è alleata con il Movimento 5 Stelle con il benestare di Berlusconi che ai tempi disse va bene, vai e procedi a Matteo Salvini questa è la storia dopodiché che il voto alle europee sia un voto importante quando Salvini prima parlava di, avete letto le dichiarazioni, di referendum è un referendum sia in Europa sia ovviamente un ritorno a livello nazionale se la Lega dovesse essere il primo partito in Italia è chiaro che sarà un messaggio preciso sia nei confronti dell'Europa sia ovviamente nei confronti anche degli alleati di governo allora voglio tornare un attimo